Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi vi presentiamo un saggio molto interessante appena pubblicato da Biblioteca Clueb che si intitola La guerra d'acqua dolce, navi e conflitti medievali nell'Italia settentrionale di Fabio Romanoni che abbiamo il piacere di avere il nostro gradito ospite al quale io come mia abitudine lascio subito la parola perché ci parli di questo interessante saggio. Prego professore a lei. Buongiorno a tutti, intanto vi ringrazio per l'opportunità che mi date per far conoscere maggiormente il mio modesto volume sulle guerre, sui fiumi e sui laghi e anche peraltro dell'Italia settentrionale. È un tema per il quale ho lavorato per diversi anni perché posso dire già nel 2007 feci un primo articolo presso l'archivio storico Lombardo in cui mi occupai appunto della navigazione interna e dei combattimenti lungo i fiumi dell'Italia settentrionale. Poi nel 2020 è successa una cosa molto simpatica, un piccolo lockdown che ci ha costretti tutti quanti a stare alcuni mesi in casa e per diletto ripresi in mano quel vecchio articolo, cominciai a raccogliere nuove informazioni, allargare un po' lo spettro anche del campo di indagine per cui allargare i laghi, perché poi i fiumi e i laghi sono un corpus unico, soprattutto pensiamo alla Lombardia, al Lago Maggiore, al Lago di Como, collegati anche col Ticino, con l'Arda, Lago di Garda e alle lagune, perché poi non dimentichiamoci il tratto finale di tutta la navigazione padana era il mare Adriatico. Al mare Adriatico si raggiunge o dal delta del Po, si raggiunge dal delta del Po, ma poi da lì si può arrivare alla laguna di Venezia, alla laguna di Grado e quindi ho ricominciato a prendere in mano l'argomento approfondendolo sotto tutti gli aspetti. Ed è un tema che mi ha molto appassionato, uno perché io sono nato e cresciuto sulle sponde del Ticino, mia nonna aveva la barca, per cui la navigazione interna per me è qualcosa di naturale, vissuta fin dall'infanzia. E poi perché soprattutto come medievista, guardandola, io mi occupo in particolare di storia militare medievale e soprattutto interessandomi al 300, mi sono reso conto che alla fine molto spesso le operazioni militari nel Medio Revo, dove le condizioni chiaramente lo permettevano, tipo la Piemua Padana, si svolgerono in gran parte a terra, ma una parte sostanziosa delle attività militari avveniva anche lungo i corsi da fiumi, laghi, canali, per una serie infinita di motivi. Innanzitutto perché non dimentichiamocelo, le acque interne sono state, sono state fino all'avvento della ferrovia, il modo più comodo, più veloce, più veloce all'andata, il ritorno un po' meno e soprattutto economico per spostare merci, merci anche di, soprattutto le merci più voluminose. Pensiamo al sale. È un dato poco noto, però nella Piemua Padana il sale arrivava dal mare Adriatico, per due motivi. Uno perché comunque in Liguria non esistevano saline, gli stessi genovesi il sale lo acquistavano in Provenza. Dopodiché trasportare quantità di sale per rifornire grandi città, diciamo Milano che già in età comunale era una grande città, ma tutte le altre attorno, era quasi impossibile a dorso di muro lungo delle strade appenniniche. Era molto più semplice imbarcare sale a delta del Po, d'altronde Comacchio e altre zone erano già note fin dall'alto medioevo per la produzione di sale e tramite dei grossi borconi fanno risalire lungo le varie stazioni che avrebbe incontrato lungo i corsi d'acqua. E non dimentichiamoci che il sale era un bene essenziale. Senza il sale non si fa il formaggio. Pensiamo all'importanza del sale che ha solo nella nostra case aria. E questo per far capire quanto le navi fossero qualcosa di importante domestico, sia per le città poste lungo i corsi d'acqua, sia anche quelle all'interno, perché poi alla fine grazie a tutta una serie di canali, i navigli di Milano ne sono ad esempio più noto, ma non solo il comune Milano si tratta di navigli, ci furono navigli a Modena, ci furono navigli in altre città, soprattutto in Emilia, anche in Lombardia, anche in Veneto, per collegare i grossi itinerari fluviali ai laghi e alle città. Non dimentichiamoci infine che molto spesso gli itinerari stradali stessi si congiungevano con le vie d'acqua, per cui la stessa merce o lo stesso spostamento potrà essere fatto in parte via terra e in parte via d'acqua. Chiaramente tutto ciò veniva sfruttato anche dagli eserciti. Nel Medioevo, le testimonianze che ho raccolto sono numerosissime, molto spesso le navi venivano utilizzate per spostare le artiglierie, da quattrocenti in poi chiaramente, le macchine da guerra, le vettovaglie, le parti più pesanti diciamo dell'equipaggiamento, mentre invece spesso l'esercito da terra seguiva lungo le strade, tant'è che molto spesso c'erano strade localizzate lungo le vie d'acqua, strade che potevano essere utilizzate anche per il treno all'Alzaia. Non dimentichiamoci che queste navi, che mentre non avevano grossi problemi a discendere la corrente, perché naturalmente erano portacavalle, grossi problemi vivono invece nel risalire i corsi d'acqua, perché comunque una nave lungo le acque interne non può utilizzare le vele, perché comunque il percorso trattuoso dei fiumi e nonché la mancanza di venti costanti in tutta l'asse Padano non ne facilitava certo l'uso, ma allo stesso modo anche andare a remi sarebbe stato molto faticoso, perché significava remare per lunghi chilometri controcorrente ed era un'operazione che non mi si stancava molto velocemente. Per cui, come anche fino alla metà del Novecento, il metodo più fino all'avvento del motore sostanzialmente, il metodo più veloce per risalire un corso d'acqua era appunto il treno all'Alzaia, cioè una fune veniva legata a poppa, quindi alle spalle della nave, risaliva l'albero della nave che poi era trainata da degli uomini a rivo da un cavallo. Era un metodo molto veloce, tenete conto che una barca di 30 metri circa, mediamente la lunghezza era quella, potesse trainata da un cavallo o da tre uomini che tiravano la fuente. Questo poi peraltro viene utilizzato anche per le flotte da guerra, perché le modalità di navigazione erano le stesse. Non vi erano navi propriamente da guerra, si svilupparono sì da trecenti in poi, ma lo scafo sostanzialmente era lo stesso scafo delle imbarcazioni civili. Si tratta di navi chiaramente a fondo piatto, prive di chiglia e dalle estremità non solcanti. Ecco, queste sono proprio le caratteristiche delle imbarcazioni sia fluviali che di lago. Caratteristiche dovute al fatto che dovevano navigare a volte su massi fondali, evitare di arenarsi e allo stesso modo non dovevano avere delle estremità che tagliavano, come le navi sul mare che si vede la punta della nave che taglia proprio le onde. Sui fiumi e sui lago ciò non avveniva, dovevano stare a farla e quindi dovevano avere quel tipo di caratteristiche, altrimenti si sarebbero ribaltate. Dice poco da fare, ecco, sostanzialmente. La pianura padana, che è una terra di acque, conobbe già in età romana un certo sviluppo della navigazione, anzi in particolar modo qui già dal primo secolo dopo Cristo, i romani svilupparono sia la navigazione lungo il corso del Po e dei suoi maggiori fluidi, tramite i quali potrebbero raggiungere parte i lagri prealpini, sia la navigazione lungo l'asse, diciamo, adriatico, cioè dalle foci del Po attraverso canali, paludi e quitrini fino alla laguna di Venezia, quella di Grabo. Tant'è che ci si è resi conto, e questo si sono resi conto gli archeologi, che molto spesso località anche lontane dal mare adriatico, penso ad esempio gli scavi che hanno fatto nell'insediamento romano d'Angera e nella necropoli in particolar modo, hanno portato alla luce i reperti tipici dell'ambiente adriatico. Le stesse anfore che hanno trovato in età romana a Cremona, che sono state studiate, provenivano tutte dall'Adriatico, dalla Puglia, dai Balcani o comunque dal Mediterraneo erettale, per cui si vede come le vie d'acqua univano mondi anche molto distanti fra loro e per cui collegando città e località poste anche ai piedi delle Alpi all'Oriente. In età romana abbiamo poche notizie riguardo i combattimenti fluviali, anche perché sicuramente ve ne furono nel 69 d.C. a Cremona durante le guerre civili, ma la vera propria storia della guerra sui fiumi e nelle acque interne la faccio iniziare con gli strabochi. Per un motivo, innanzitutto perché Teodorico rafforzò la navigazione fluviale, però addirittura un servizio di navigazione, così potremmo dire, tramite i dromoni, quindi delle imbarcazioni molto grandi, lunghe anche 30 metri, con un basso pescaggio, pescavano circa 80 centimetri, per cui poteranno navigare quasi ovunque, simili ai dromoni che i bizantini e già in età romana furono utilizzati poi sul mare. Questo servizio di navigazione collegava Pavia, Ticimum, con Ravenna, che erano due città sedi della corte, ecco, c'erano due palazzi regi, Ravenna inizialmente fu la vera propria capitale del regno Stregotto, però contemporaneamente Teodorico fece realizzare un importante palazzo anche Pavia, che poi fu usato successivamente dei re Longobardi. Ecco, quindi questo primo tratto di navigazione fu istituito da Teodorico e non solo, sappiamo anche che durante la sua prima, durante la conquista dell'Italia, lui fece addirittura realizzare una flotta di dromoni per assediare Ravenna. Nel sedere Ravenna gli Ostrogoti mettono in campo anche delle navi da guerra, ecco. E queste sono fra le prime attestazioni che abbiamo. Diversamente i suoi successori, i Longobardi, ebbero sempre un certo timore verso l'acqua interna. Tant'è che, come riporta Paolo Diacono, ammesso che quanto racconti Paolo Diacono sia del tutto vero, pare che inizialmente durante l'arrivo al Boino evitò quasi tutte le città poste lunghi grossi d'acqua. Cremona, Piacenza, Padova, Pavia, peraltro, che fu conquistata secondo Paolo Diacono, ma poi si è scoperto che in verità questa è una sorta di fake news, quella serie forse non avvenne mai, però sicuramente tutte le città poste lungo il Po non furono conquistate solo in uno secondo momento. E la stessa cosa l'isola come Cina, non dimentichiamoci, è un'isola a poche decine di metri sostanzialmente dalla riva del lago e dove, sempre secondo il racconto di Paolo Diacono, i bizantini avevano depositato tutti i tesori delle città padane. E quindi è un luogo che c'è estremamente, tra virgolette, gola, perché bastava andarli a prenderli eppure ci mettono dei decenni per conquistarlo. Perché? Perché pur essendo un popolo che per lunghe generazioni ha vissuto lungo un fiume, anche un fiume molto importante, il Danubio, non avevano sviluppato tecniche di navigazione, sapevano attraversare magari, diciamo, non di combattimento, i corsi d'acqua, ma ci misero dei decenni per impratichirsi su questo tipo di combattimento. Tant'è che probabilmente con la collaborazione dei loro sudditalici, pian pianino, cominciarono poi anche loro ad allestire delle navi e a combattere sui fiumi. Le navi lungobarde furono utilizzate anche da una presa di Ravenna e altre operazioni, ma un vero e proprio avvio, diciamo, della navigazione militare, militare settentrionale, avvenne solo dal X secolo. Ecco, nel X secolo sappiamo che... Perché? Perché già in età carolingia c'erano flotte, però principalmente ci si appoggiava a navi che provenivano da Comacchio, ad esempio. Ad esempio, a Cremoni, in età carolingia, per avviare il commercio fluviale, dovessero affittare delle navi da Comacchio, perché nessun cremonese disponeva di navi di una certa stazza, eh? Per cui... Mentre invece, cento anni dopo, l'imperatore Ottone poterà adunare il suo esercito a Pavia, imbarcarlo, ridiscendere il Po e poi arrivare fino alla Rocca di Stalleo, dove si era asseragliato berengario. Quindi possiamo dire che nel X secolo non c'erano problemi comunque a riaprire in loco lungo le città padane, diciamo, imbarcazioni adeguate per una spedizione militare. Ecco, come chiaramente poi le informazioni, maggiori informazioni abbiamo soprattutto per il campionale, quando si ha notizie di imbarcazioni che vengono utilizzate per tutta una serie di operazioni. Ora, parlerò poco di battaglie, perché contrariamente a quanto ci si possa aspettare, la battaglia, ma ciò in parte veniva a terra, era uno degli eventi meno comuni, nel senso che le imbarcazioni principalmente venivano utilizzate per assediare città, devastare il territorio nemico e per un tipo di operazione abbastanza strana ai nostri occhi, ma la distruzione dei porti. Ecco, perché non dimentichiamocelo, questo è un altro aspetto peculiare, diciamo, dell'Italia settentrionale. Fino all'Ottocento, ponti lungo il Po non ce ne furono, non c'erano ponti fissi in strutture in muratura, al limite c'erano dei porti dei ponti natanti, ma anche quelli erano pochi, erano ponti sostanzialmente costruiti sopra imbarcazioni che potevano essere smontate all'occorrenza, per far passare magari un convoglio di navi, che potevano essere distrutti anche per impedire al nemico l'attraversamento del corso d'acqua, ma che comunque non erano stabili, anzi spesso erano pure distrutti alle piene o davetti di questo tipo, ecco. A volte si incendiavano, perché comunque erano interamente composti fatti in legno, erano barche e assi. Solo per citare un caso, ad esempio sul Ticino, dal lago Maggiore fino alle sue foci nel Po, l'unico ponte stabile dall'Alto Medioevo fino all'Ottocento era il ponte coperto di Pavia, era l'unico ponte in muratura, però Pavia era la capitale del regno per cui poteva permettersi di avere un ponte stabile. Sull'Adda, ad esempio, i ponti, anche quelli costruiti dal Comune di Milano, erano ponti in legno, erano ponti che potrebbero essere smontati, in questo caso non erano ponti subarche, ma erano ponti costruiti in legno soprattutto per essere smontati in caso di attacco e sbagando così il passaggio fluviale, ecco. Per cui, tra le prime operazioni militari che conosciamo, via queste operazioni, via queste azioni condotte dai comuni di Bellini, in particolar modo i pavesi, supportate anche dai lodigiani, contro i ponti, c'è in varie occasioni gettate ai tempi di Federico Barbarossa, dal Comune di Piacenza lungo il Po. Si trattava di strutture molto lunghe, perché il poli, insomma, è corposo, è molto largo come fiume, e che erano spesso provvisti di torri in legno, strutture fortificate. Ecco, generalmente questi ponti venivano proprio fortificati come se fossero dei castelli di legno, sia per motivi, diciamo, chiaramente militari, per cui dovevano difendersi da un eventuale attacco nemico, sia anche a volte per motivi fiscali, perché comunque al ponte si pagava al Dazio, e quindi avere una torre all'ingresso e all'uscita era utile a fermare quelli che di lì dovevano transitare quelle merci e quant'altro. Questi ponti erano stati realizzati, ne hanno fatti un paio in successione, ecco, dal Comune di Piacenza, per collegare la sponda piacentina al comune più importante, diciamo, della Lega, che era il Comune di Milano. Piacenza era anche, ovvero, un importante comune nel XII secolo, e quindi era il passaggio fulviale per consentire ai comuni di diciamo aderenti alla Lega, posti a sud del Podico, a legarsi a quelli a nord. Proprio per questo l'Imperatore Federico tentò in più occasione di distruggerli. Alcune volte ci riuscì, altre volte le operazioni andarono male, però la cosa, lo stesso fenomeno si ripetè chiaramente anni dopo, nel secolo successivo, ai tempi di Federico II. Infatti ci fu una serie di attacchi, questa volta condotti sempre dai soliti pavesi, cremonesi e gli altri alleati dell'Imperatore, contributi che collegavano appunto Piacenza a Milano. In genere, per distruggere i ponti, uno degli spedienti più usati, è anche banale dirlo, era quello di costruire una grossa nave, riempirla di legna, stoppina, pece, comunque una nave incendiaria, sostanzialmente, e col favore della corrente, lasciarla andare in modo che essa andasse a infrangersi contro le navi di Nicamo. In genere, un tipo di operazione che funzionava, anche perché i difensori ben difficilmente riuscivano a scansare una grossa nave che portate con la velocità della corrente andare ad infrangersi contro il ponte. I piacentini una volta invece riuscirono a scansarla, pare secondo il cronista che con delle grosse graffe di ferro riuscirono a deviare la barca, e farla rendere a riva, salvando così la struttura, che poi però dovettero smontare, perché nel frattempo è arrivata anche una piena del Po, accidenti, quanti guai che succedono su questi fiumi, e quindi salendo le acque portate salirono e quindi loro dovettero smontare il ponte. In altre occasioni, ad esempio gli Este, nel Trecentro, in Aldo d'Este, per distruggere sempre un ponte sul po' questa cosa, non fatto dai piacentini, ma ad Argenta, fece sradicare alcuni salici, proprio i salici, quei grossi alberoni che ancora adesso si vedono lungo le rive dei fiumi, gli fece legare con delle catene e li lasciò trascinare dalla corrente contro il ponte. Anche in questo caso fece centro, perché il ponte andò in Frantuni. Ma a preverne altri spedienti, chiaramente al momento in cui, tra fine Trecento, inizio Quattrocento, quando ormai la polvere da sparo cominciò a diventare uso comune, ad esempio sappiamo che Jacopo Dalverne, all'epoca al servizio dei Visconti, per distruggere il ponte dei Gonzaga, il ponte di Borgoforte, il ponte fortificato è molto importante, utilizzò la polvere da sparo, per cui caricò un barcone con dei barilotti di polvere da sparo e questo fece letteralmente esplodere il ponte Mattovano. Chiaramente anche questi ponti, poi prima parlavo delle torri fortificate, delle strutture difensive, ma vi erano altri spedienti per distendere un ponte. Ad esempio molto spesso veniva tesa una catena sulle sponde del fiume, prima davanti a valle del ponte, in modo da fermare ogni nave e tutto al naviglio nemico. A noi può sembrare una cosa strana, ma anch'io all'inizio non ci credevo molto, ma effettivamente in alcuni casi, come Ficarolo o nel caso di Borgoforte, guardando i documenti, c'è un documento dell'archivio Gonzaga del 1392 che riguarda alcune riparazioni a cui era stato soggetto il ponte e sono elencate tutte le spese e le misure delle assi di legno, della catena, e sono rimasti impressionanti. Nel 1392 Borgoforte aveva una catena di ferro lunga 1092 litri, misure non da poco per l'epoca. È anche complicato pensare come facessero poi concretamente a tendere questa catena da una riva all'altra. Sono tutti aspetti curiosi che ci fanno anche vedere come ci fosse anche un sapere tecnico dietro a questo tipo di guerra che non era comune. Parlavo delle strutture fortificate, ma non dimentichiamoci della distruzione dei ponti, come durante gli assedi, spesso le navi venivano utilizzate anche come piattaforma per macchine da guerra. Chiaramente trabucchi e altri altri tipi di armamenti, anche grosse balestre venivano spesso utilizzate, ma ad esempio c'è una cronaca padovana nel 300 che narra di questa guerra che è stata fatta, si svolse negli anni 70 sempre nel 300 fra i veneziani e i parraresi, e i veneziani da veri maestri riuscirono anche a utilizzare le navi nelle lagune, nelle acque interne, come supporto per le proprie macchine della guerra anche molto lavorate. Ad esempio c'è questo episodio della Torre del Curame, una torre carrarese, difesa da steccati e quanto altro, i veneziani si avvicinano alla torre con delle navi e queste navi hanno degli argani che manovrano delle specie di ben, sembrano quasi delle tenaglie, che riescono attraverso questi argani a strappare tutti i pali che erano stati posti di difesa attorno alla torre e poi ad alzare delle strutture linee nelle quali c'erano dei balestieri che hanno lanciato dei darti infuocati sul ballatoio ligno della torre, incendiandolo, insomma un'abilità tecnica non da poco. Chiaramente poi a partire dalla fine del 300 e soprattutto nel quattrocento su queste navi furono installate anche bombarde e altre armi da fuoco che furono sfruttate sia negli assedi, molto spesso negli assedi bastava che la flotta si avvicinasse e mostrasse le bombarde imbarcate che le città già si arrendevano, così successe ad esempio a Legnago sull'Adige quando nel 1440 la flotta Viscontea si avvicinò risalendo il fiume, bastò solo vedere le bombarde e la lottenza che potevano, che avevano e le città preferirono a Legnago, molto spesso, e poi anche nei combattimenti. Ecco, questa è la fase in cui soprattutto nel 400 sui fiumi si combatte. Gli episodi più noti sono quattrocenteschi, ecco, ma anche perché nel 400 il Po fu un particolar modo al teatro di guerra fra i Visconti e la Repubblica di Venezia, che erano le maggiori potenze, diciamo, dell'Italia settentrionale dell'epoca. Peraltro questi combattimenti sono stati anche a lungo studiati, ecco, forse quello è l'aspetto della guerra frugiale più studiata in generale a Mendoa Litz nel 1900. L'età comunale in genere e anche il 300 hanno passato un po' in secondo piano, ecco. L'alto medioevo non parliamo nemmeno. Quindi questi grossi combattimenti quattrocenteschi vengono fatti prevalentemente da una tipologia di nave, il Galeone. Il Galeone è un'imbarcazione lunga circa 30 metri. Può imbarcare anche una cinquantina di Navaroli. I Navaroli sono i marinai. I Navaroli sono una figura particolare perché spesso vengono reclutati lunghi fiumi, lunghi laghi. Spesso si trasmettono questa tradizione di padre in figlio. Addirittura nello stato bisconteo i Navaroli sono registrati. Ci sono determinate città che forniscono i Navaroli, che sono quelle poste sul Lago Maggiore, quelle poste sul Lago di Como, Pavia, Piacenza, Cremona e poche altre. E i Navaroli godono di tutta una serie di privilegi, perché i Navaroli devono servire il Ducca, però ad esempio hanno esenzioni fiscali, possono girare armati e si trasmettono questo titolo letteralmente di padre in figlio, tant'è che probabilmente si conoscono anche tutti. I Navaroli erano coloro che spingevano le barri, erano gli attori principali, erano nei combattimenti non bastavano. Chiaramente per vincere soprattutto una battaglia fluveale bisogna rimbarcare anche balestrieri e altri tipi di fanti. Poi non dimentichiamoci che le Navi avevano anche una bombarda, i Galeoni imbarcavano una bombarda, per cui dobbiamo immaginarci queste imbarcazioni che durante i combattimenti hanno letteralmente gremite di uomini, perché molto spesso questi fanti chiaramente non erano imbarcati sempre, venivano imbarcati, venivano tratti dalle forze e dall'esercito di terra, altro motivo per cui spesso l'esercito viaggiava di fianco alla flotta, operava di fianco alla flotta, e questi uomini venivano imbarcati durante i combattimenti, risalivano sulle navi, per cui c'è da immaginarsi i ponti di queste navi letteralmente gremiti di uomini. Ora un aspetto che mi ha incuriosito e che ho messo un po' in luce nel libro, come la psicologia militare evidenziato, generalmente tutti hanno paura prima di iniziare un combattimento, e una delle azioni più difficili è quella di stare dritti, osservare il nemico avanti, l'ha schierato, non dimentichiamoci che parliamo di battaglie medievali, questi uomini non combattevano a chilometri di distanza, né davanti a un pc o un radar, ma combattevano a poche centinaia di metri l'uno dall'altro, a volte anche decine di metri, poterono vedersi, ascoltarsi, sentire le grida, le precazioni. È chiaro che riuscire a starla ferme e attaccare, muovendosi con le proprie gambe o quelle del proprio cavallo, un avversario schierato di fronte a te, insomma significa anche oltrepassare un po' l'istinto alla sopravvidezza. Tutti hanno paura, e anche questi uomini avevano paura, non erano dei pazzi forse nati. Però sulle navi il combattimento era qualcosa di diverso, e anche se vogliamo con degli aspetti divertenti, nel senso che chiaramente su questi galeoni saranno stati imprimati i fanti e i balestrieri, coloro che erano addetti alle armi da fuoco, che magari erano tratti soprattutto dalle forze terra, ma alle loro spalle, chi è che governava innatante, o tenendolo fermo anche con delle catene se controcorrente, perché le navi si muovevano in formazione, ma chiaramente una formazione non resiste controcorrente, per cui dovevano ancora rifissare la nave, o spingendola se avevano il favore della corrente. Erano i Navaroli, e i Navaroli prendevano parte al combattimento solo in un secondo tempo. Quando ormai le due formazioni erano giunte a stretto contatto, un galeone cozzava contro l'altro, c'era andare all'arambaggio, per cui diciamo, questo istinto, questa paura, inizialmente non credeva in avaroli, che erano in seconda linea, e sicuramente avranno avuto molto timore quelli che erano davanti, per cui invece fanno i balestrieri, ma anche loro non potevano fare niente, perché non potevano scappare o gettarsi giù dalla nave, anche perché come sappiamo, e quasi tutti gli statuti e i documenti ne parlano, dovevano indossare l'elmo, magari la maglia di ferro, a volte anche una corazza, cioè un equipaggiamento che sarebbe stato suicida a buttarsi in acqua, sarebbero morti annegate all'istante, e quindi non avevano un'altra scelta, che rimane imbarcati e devono forzare l'uno contro l'altro. Così furono tutte le battaglie navali, sostanzialmente, ma in modo analogo andavano anche quelle varie, cioè ancora l'Eppanto si è combattuto in quel modo lì. Sui fiumi però c'è una piccola differenza, l'ambiente è stretto, non puoi manovrare, è molto difficile, anche sul po' è molto difficile manovrare. I veneziani ogni tanto ci provano, poi i veneziani fanno anche cose strane, perché ad esempio tendono sempre a portare sul po' alcune galee, ma poi si accorrono anche i galee sul po' non vanno tanto bene, perché sono instabili, perché sono molto lunghe, sottili, non riescono a reggere la corrente, sono impiallacciati, insomma non sono adatte a quel tipo di ambiente, e quindi anche loro cominciano a fare appunto i galeoni, tutti gli altri d'altronde. Però nel Quattrocento l'artiglieria diventa sempre più agile e sempre più manovrabile. A metà Quattrocento ormai i cannoni si possono spostare molto più facilmente delle bombarde che c'erano prima. Per cui nel Quattrocento, negli anni Quaranta, a Casal Maggiore, i veneziani, sempre in guerra contro lo Sforza, all'epoca c'era Francesco Sforza, non si era ancora fermato, per cui quel territorio virtualmente apparteneva ancora alla Repubblica Ambrosiana, però di fatto lo Sforza ormai comandato tutto lui, risalirono con la flotta nel tentativo di conquistare Clemuda. Non ci riuscirono, però il comandante veneziano molto saggiamente decise di ritirare la propria flotta a Casal Maggiore dove il posto divideva due rami. Un ram era dotato di una grande ansa. Allora lui decise, il Quarini decise di sistemare tutta la flotta veneziana, parliamo di circa una cinquantina di galeoni, più altre imbarcazioni minori, navi da trasporto e quant'altro, e lo fece sistemare nel lance di Casal Maggiore fortificando entrambe le rive del Po, ecco, con delle catene, con degli sbagamenti, in modo che se la flotta nemica si fosse avvicinata avrebbe potuto affrontarla difesa da queste strutture. Peccato che dall'altra parte gli Sforzeschi fecero sistemare un po' di bombarde sulla sponda del Po e un po' sull'altra. Se erano male, avevano fatto la clivenzione, fecero la fine del Po sostanzialmente, perché quando arrivò la flotta nemica furono bersagliati da entrambe le rive del Po dalle bombarde nemiche e chiusi all'interno, fra le catene staccionate, non poterano manovrare, per cui alla fine dovetto arrendersi. Non bastò quello perché ancora nel 1506, nel 1509 scusate, perdone, tentarono una mossa anagola contro le stesse e la famosa battaglia dell'Eto con Israele, per cui anche lì, ancora una volta, una flotta veneziana risale in Po, tentò ad avvicinarsi al territorio ferrarese, anche in questo caso si accampò verso l'intorno a Polesella, aspettando l'arrivo dei contingenti terrestri, però non impararono la lezione di Casamaggiore, per cui le navi furono, in questo caso, ultramigali peraltro, furono attraccate anche in maniera un po' disordinata, si credeva che gli estensi si sarebbero resi velocemente, ecco, mentre invece gli estensi, che erano dei grandi attiglieri, erano i primi del Cinquecento, ormai, i cannoni erano qualcosa di serio e molto più potente, manovrabile rispetto all'inizio del Quattrocento, avevano avuto una notevole evoluzione nelle guerre d'Italia, non fece altro che sistemare a pelo d'acqua sulle sponde del Po numerose artiglierie, bocche da fuoco. Poi chiaramente risalirono anche un castello Lignan, che è stato dotato di bocche da fuoco, che fu sganciato e lo fecero discendere contro la flotta veneziana, ma questo bombardamento a pelo d'acqua ravvicinato frantumò letteralmente tutta la flotta veneziana, tanto che si parla di circa due, trecento unità, se ne salvarano poche decine, che riuscirono a ritirarsi, ma tutto il resto della flotta venezia. Possiamo dire che la battaglia di Polesella del 1509 pone fine di fatto alla guerra sui fiuti. Sul lago andarono avanti il conto, a dire la verità, perché mi sono accorto che addirittura nel risorgimento ci sono episodi di combattimenti nel Lago Maggiore, sul Lago di Garda, tant'è che addirittura, qua esono un po' dal mio campo, però nel libro che troverete, Napoleone III fece addirittura allestire una flotta per operare sul Po durante la seconda guerra di dipendenza. E poi chiaramente pontoni e navi furono utilizzate poi sul Piava, la prima guerra mondiale, quello proprio il canto del cigno della guerra mondiale. Forse mi sono dilungato un po' troppo, non so se... No, 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 si starebbe a lungo a sentire, perché è un argomento davvero stimolante e particolare, no? È un aspetto della guerra medievale poco conosciuto. Io così ho delle reminescenze di una guerra lacustre tra milanesi e comaschi, che è durata anche molto a lungo, no? Sì, ne parlo, la guerra decennale, la famosa guerra decennale tra Como e Milano e vari alleati per l'anno. Esatto, però su un lago uno se la immagina un po' diversa, no? Invece sui canali e sui fiumi è particolare, perché ci sono aspetti della navigazione che sono profondamente diversi da quella marittima, per esempio. Sì, 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 sì. Ecco, e tra l'altro non siamo più in diretta adesso, no? No, no, siamo sempre... Ah, sì, sì. E peraltro un aspetto curioso, ad esempio, io ho parlato dei laghi, come dicevo molto prima, e sui laghi la vicenda è un po' diversa, perché gran parte dei laghi dell'Italia settentrionale, a parte il lago di Garda, che nel Quattrocento è stata un po' la frontiera fra Repubblica di Venezia e Ducato di Milano, e quindi sul Garda nel Quattrocento si combatte a lungo, anche con operazioni, una tra l'altro è menzionata all'inizio del mio libro, forse fra le più stupefacenti, sia a livello di ingegneristico anche, ma anche economico, perché è un grandissimo posto, che fecero i veneziani, cioè quella di portare una flotta dall'Adige, far risalire l'Adige, fino a Rovereto, e poi da lì attraverso 20 chilometri di vallate alpine, dove costruirono quasi una sorta di ferrovie in legno, perché queste navi furono, parliamo di 30 imbarcazioni, da alcune galere, non cose da poco, ogni galere a parte pare che necessitò di 120 coppie di buoi per essere trascinata, queste navi furono poi fatte discendere dall'Adige Alpine e arrivarono fino a Torbole, dove furono messa nel lago di gara. Poi peraltro si era distrutto quasi subito a Maderno alla fronte di Scottia, per cui non è che, insomma, un'impresa titanica che almeno la prima volta portò poco. Tutto ciò per rifornire Brescia, perché Brescia era assediata da Filippo Maria e Visconti e l'unico modo che avevano i veneziani per rifornire di Vettovagli e Brescia, gli uomini, era quello attraverso perché Brescia era circondata. Poi rifeciano la stessa operazione anno dopo, però, vabbè, non portarono più navi intere, ma si limitarono a portare, diciamo, sostanzialmente dei pezzi di nave ideati al nazionale, che sempre furono poi buttate a Torbole, ecco. Ma la cosa più curiosa è che sul lago di Gauda si combatte a lungo, soprattutto nel Quattrocento. Poi quando i veneziani presero Brescia e altre città diventano un lago molto specifico. Mentre invece sul lago Maggiore, sul lago di Como, quelli sono per i pochi episodi, perché furono laghi quasi interamente, i Viscontei prima e i Forzeschi poi, non erano in confine di nulla, per cui non c'era motivo di combattere. Gran parte dei combattimenti alla fine erano sul Po, sul Po, un po' sul Ticino, un po' sull'Adige, un po' sull'Adda, e poi poco, perché poi il grosso reposso, ecco, sul Po si affronta, era proprio il confine, dove comunque gli attori erano tanti, Gonzaga, gli Estensi, e poi prima ancora i comuni, soprattutto i comuni più importanti, che comuni che avevano la flotta, perché non tutti i comuni avevano una flotta. Cioè, la flotta è importante, Milano, per avere una flotta, doveva appoggiarsi ai comuni e alle località che stavano sui fiumi e sul lago. Ma praticamente noi diciamo flotta Viscontei, ma la flotta Viscontea, questo lo sappiamo dai registi, era prevalentemente composto da Pavesi. Pavia era la città che aveva la flotta più importante, tant'è che il capitano, per il Ducato di Milano, il capitano della flotta stava Pavia, dove c'era l'arsenale. E in genere erano sempre Pavesi, quasi tutti andati negli Eustachi, peraltro, che erano un monopolio. Poi c'erano Cremonesi, poi c'erano Ludigiani, Piacentini, gli abitanti del lago, quelli di Locarno, quelli di Como, però la flotta era formata di questi. Poi nel libro, a volte, viene detto la flotta milanesi, i milanesi non dedicavano, non navigliano, ma non avevano questa tradizione, diciamo, tra le voce nautica. Bene, allora bisogna correre ad acquistare questo bellissimo libro per scoprire cos'è stata la guerra d'acqua dolce, navi e conflitti medievali nell'Italia settentrionale, pubblicato da Biblioteca Clueb da pochissimo e scritto da Fabio Romanoni, che abbiamo avuto il grande piacere di avere il nostro gradito ospite, e che ce n'è data un'anticipazione, ma è obbligatorio acquistare il libro. Io la ringrazio tantissimo. Grazie a voi, ringrazio e ringrazio a tutti quelli che mi hanno supportato per questa buona mezz'oretta. E invece a tutti i nostri utenti ricordo di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org, dove troverete anche tutte le videopresentazioni che sono sul nostro canale YouTube. E che dire, navighiamo col vento in poppa? Sì! Va bene, buona serata allora. Grazie, buona sera a tutti. Grazie a tutti.